Ben ritrovati miei blasfemi amici. In più occasioni abbiamo parlato in questo canale di artisti che con il proprio talento hanno saputo rendere in forma visiva gli agghiaccianti racconti dell'orrore di Howard Phillips Lovecraft. Ti rimandiamo all'apposito video sull'arte lovecraftiana realizzato da Forteschio e a quello sugli adattamenti di Goutanabe per approfondire i più illustri esempi sull'argomento. Oggi siamo qui per trattare un'altra produzione artistica che ha sancito un vero e proprio spartiacque in fatto di rappresentazione dell'orrore cosmico. I miti di Cthulhu, recentemente ripubblicato in Italia da Mondadori, che raccoglie una serie di racconti di Lovecraft adattati, con l'eccezione di La Ricorrenza, da Norberto Buscaglia. Prima di proseguire ricordati di condividere questo video con i tuoi amici appassionati e di lasciare un commento. Puoi richiedere video personalizzati su ambientazioni a tua scelta abbonandoti al canale o al Patreon, con una piccola donazione Paypal o TP. Un ringraziamento a tutti i sostenitori che rendono possibile proseguire le nostre attività. Io sono Lady E di Libri del Mistero. Se ti appassionano gli audiolibri, vieni a trovarmi sul mio canale. Alberto Breccia, 1919-1993. È stato un celebre fumettista argentino, riconosciuto come uno dei più grandi maestri del fumetto sudamericano e internazionale. Breccia è noto per la sua straordinaria abilità nel creare atmosfere cupe e suggestive, utilizzando una vasta gamma di stili e tecniche artistiche. Un altro capolavoro di Breccia è stata la sua collaborazione con lo sceneggiatore Hector German Osterheld nella serie Mort Sinder. A partire dal 1973, Breccia si cimenta negli adattamenti di molteplici racconti dello scrittore di Providence. Ai testi abbiamo Norberto Buscaglia, che realizza adattamenti molto fedele ai testi di partenza. Purtroppo questi, talvolta, non viene nemmeno citato come coautore, probabilmente per via dell'enorme fama degli altri due soggetti coinvolti. Rispetto alle altrettanto celebri trasposizioni di Goutanabe, le quali si distinguono per un taglio grafico preciso e rigorosissimo, che riesce a dare palpabile concretezza a esseri sulla cui natura non si può sindacare, il tratto di Breccia è esattamente l'opposto. Un guazzabuglio di tratteggi densi e oleosi, nei quali i mostri non sono esseri in carne e ossa, ma concetti mostruosi lontani dalla nostra percezione del reale, e pertanto impossibili da descrivere a parole. Una nebbia visiva confonde lo spettatore, mostra senza rivelare davvero, distorce i sensi conforme e proporzioni insolite. Non solo esseri provenienti dall'altrove, ma anche protagonisti umani spesso e volentieri sono rappresentati in maniera espressionista, come se anch'essi fossero ormai troppo lontani dal reame del consuetudinario. L'effetto è ottenuto anche ricorrendo a una serie di collage che permettono di generare figure che stridono col resto delle vignette, perciò appropriate per rendere l'idea di stortura rispetto alla razionalità umana. In La ricorrenza seguiamo la discesa metaforica e fisica del protagonista nelle viscere dell'antica città di Kingsport, per adempiere all'antichissimo rito della ricorrenza tramandato da secoli nella propria famiglia. Le sagome, poco definite, delineano il concetto di un'umanità tale solo di nome, fedele a presenze innominabili che si celano nelle viscere della terra e che hanno imparato a camminare quando invece dovrebbero solamente strisciare. Alternando il tratto a mano con l'impiego di fotografie l'autore riesce a rendere efficacemente l'ambivalenza di Kingsport, arcaica e refrattaria alla presenza umana prima di Yul Tide e moderna e piena di vita subito dopo. La sfida incredibile vinta da Alberto Breccia è proprio quella di riuscire a mostrare visivamente ciò che per definizione è indescrivibile e troppo orribile per essere narrato. In Il richiamo di Cthulhu, il grande Cthulhu non spaventa perché è un essere titanico, potentissimo e ultraterreno. Spaventa perché è qualcosa del tutto contrario alla nostra concezione del reale, che non può esistere secondo le leggi di natura a noi note. Pertanto l'artista lo rappresenta in una forma assolutamente impossibile da descrivere a parole, che va addirittura oltre gli sforzi di Lovecraft di darci perlomeno una fisionomia base riconoscibile. Qui non abbiamo più una piovra antropomorfa con ali sulla schiena, ma un vero e proprio fenomeno extracorporeo di cui nessuna parte è facile da descrivere. In La cosa sulla soglia si denota una certa tendenza ad applicare un tratto denso e pastoso, dove i contorni sono poco definiti e tutto è confuso. Sicuramente una scelta voluta per rispecchiare il clima di indeterminatezza e di scambio continuo tra le personalità del povero Edward Herbie e di sua moglie Asenath Waite, perfida strega, decisa a impadronirsi del suo corpo per padroneggiare al massimo i propri poteri. In L'abitatore del buio, lo scrittore Richard Blake si stabilisce nella chiesa di Federal Hill, di Providence, che gli italiani del posto, dal lungo tempo, ritengono infestata da un essere ostile alla luce del sole. In effetti, l'edificio era oggetto dei culti della saggezza stellare, una setta che lo evoca tramite un trapezoido brillante non forgiato su questa terra. L'incauto Blake posa i suoi occhi su di esso e da allora inizia a entrare in contatto con orridi segreti dello spazio profondo, mentre l'abitatore del buio striscia inesorabile verso di lui. Breccia decide di puntare sullo stile espressionista, fatto di contorni spigolosi e di un rigido utilizzo di bianche e neri, per enfatizzare l'alienazione del protagonista dal mando razionale e degli altri cittadini, troppo terrorizzati dalle proprie superstizioni per fare niente che non sia pregare. In L'orrore di Dunwich, il dottor Hermitage scopre che Wilbur Whitley di Dunwich, un ragazzo dal terrifico aspetto caprino che cresce a un ritmo innaturale, pianifica di attuare il volere di suo nonno e di rendere possibile il ritorno degli antichi sulla terra, guidati da Yog Sothoth. Il lettore scopre alla fine che Wilbur ha un fratello gemello, addirittura più mostruoso di lui, dato che assomiglia di più al padre. Anche in L'orrore di Dunwich, il talento visionario dell'artista si scatena nella rappresentazione del mostro, una forza blasfemara, capricciante, normalmente invisibile agli occhi e che quando diviene visibile è troppo sbagliata per i nostri canoni. Similmente a ciò, le creature di La Città senza nome, sono esseri indescrivibili sia per il narratore che per lo spettatore, rendendo persino meno comprensibili i già vaghi accenni a una fisicità morbosa dell'autore di Providence e perciò ponendo il tutto in uno stato di terrore ancora più avanzato. In Il colore venuto dallo spazio, il vecchio Amy Pierce rievoca la vicenda di decenni prima che portò alla disgrazia dei Gardner, una famiglia di agricoltori la cui unica colpa era stata quella di possedere il terreno nel quale si era battuto un misterioso meteorite. Dal corpo celeste si libera un colore indescrivibile per gli standard umani che attecchisce nel terreno e inizia a contaminare tutte le forme di vita presenti. Un po' alla volta la famiglia Gardner si disgrega fisicamente e mentalmente, decadendo in condizioni sempre più bestiali e corrotte fino a che non resta nulla di loro. Una volta ultimato il suo ciclo vitale, il colore riparte per lo spazio, lasciando forse un suo simile in quella che da allora è nota come la landa folgorata. L'attento uso dei tratteggi e l'alternanza tra bianchi e neri permette di delineare sagome contorte e inumane per la condizione di degenerazione che stanno vivendo, con possibili rimandi al cubismo che si evidenziano nella innaturalezza di forme e proporzioni delle creature rappresentate. In La maschera di Innsmouth, gli onnipresenti grigi oppressivi ci accompagnano al fianco del protagonista, capitato in una detestabile località marittima nella quale si compiono sacrileghe unioni tra gli abitanti ed esseri dell'abisso che non dovrebbero esistere. Qui le sagome umane sono più facilmente riconoscibili, probabilmente per evidenziare il distacco tra i cittadini normali e i grotteschi abitanti di colmi di tratti anfibi repellenti. In Colui che sussurra nelle tenebre, il protagonista Wilmart si reca a trovare un suo corrispondente nel Vermont, Ackley, che sostiene di essere perseguitato da una razza aliena, i Migo, i cui esponenti hanno alleati tra gli uomini. Quando l'uomo incontra Ackley, lo trova stranamente ben disposto ai piani dei Migo e alla loro pratica di giungere fino al remoto Yagat, nella sola forma di cervello. Ciò che scopre con orrore nel finale è che il vero Ackley probabilmente è stato ridotto a mera materia celebrale e che quello con cui ha parlato durante la visita era probabilmente un impostore alieno, perfettamente camuffato. Anche qui le figure umane, si fa per dire, sono contorte e abnormi, tanto è lontana dal convenzionale la situazione nella quale si trovano ad agire. In definitiva, Alberto Breccia ha saputo dare vita a un'opera unica nel panorama delle trasposizioni a fumette dei racconti di Lovecraft, una serie di graphic novel dallo stile inimitabile, perfettamente consapevoli dello stato di terrore che le storie devono incutere nel lettore anche attraverso le immagini. E con questo è tutto. Se sei in cerca di una trasposizione a fumetti di racconti horror che lasci il segno, questo volume è di certo la scelta che fa al caso tuo. Trovi il link in descrizione. Lasciaci un commento. Noi ci vediamo al prossimo blasfemo video.